C'è una terza macchina coinvolta nel terribile incidente che venerdì scorso sulla provinciale Molfetta Terlizzi e costato la vita alla giovane andriese Graziana Cognetti. La conferma arriva dalle immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza che mostrano integralmente il terribile impatto tra la Renault Twingo, sulla quale viaggiava la 23enne andriese, e una Peugeot proveniente dalla direzione opposta con alla guida un giovane terlizzese. Nelle immagini si vede chiaramente la manovra azzardata compiuta da una terza autovettura in uscita dal casello autostradale di Molfetta, che troppo lentamente sembra prima svoltare verso Terlizzi per poi accelerare improvvisamente verso una piccola contrada. Il conducente della Peugeot, temendo l'impatto con la vettura in uscita dal casello, frena bruscamente perdendo il controllo del mezzo. L'asfalto risoscivoloso dalla pioggia e forse l'alta velocità rendono drammatico lo schianto con la Renault Twingo che sopraggiunge in direzione opposta. Graziana Cognetti aveva da poco terminato il suo turno di lavoro presso un call center della zona e due colleghe la stavano accompagnando alla stazione di Terlizzi, dove la giovane andriese avrebbe preso un trino per tornare a casa. Delle tre ragazze coinvolte nell'incidente è stata l'unica a non farcela, nonostante il trasporto d'urgenza al Policlinico di Bari. Traumi meno gravi ma comunque debilitanti per le due amiche ricoverate in ospedale e sottoposte ad intervento chirurgico. La polizia locale di Molfetta, coordinata dal sostituto procuratore di Trani Giovanni Lucio Baira, è al lavoro per risalire all'identità del conducente della terza autovettura che dopo aver compiuto la manovra azzardata ha fatto perdere le proprie tracce. Potrebbe rispondere anche di omissione di soccorso.